dopo pranzo iniziamo a percorrere la via dei musei poco più avanti troviamo la famosissima area archeologica di Brescia che però purtroppo durante la nostra visita è chiusa per restauri e quindi un anno dopo eccoci qua siamo tornati anche perché tra un anno Brescia insieme a Bergamo sarà capitale della cultura e non potevamo perdere questo posto finalmente ragazzi andiamo a visitare il parco archeologico di Brescia let's go l'area archeologica di Brixia comprende un teatro romano del primo secolo poi rimaneggiato e ingrandito nel terzo secolo le sue dimensioni gli consentivano di ospitare fino a 15.000 persone cosa che testimonia l'importanza della città in epoca romana il teatro era ed è ancora collegato all'area sacra una cosa che mi c'è un sacco è scoprire come alcuni lavori di recupero sono iniziati il perché ecco in questo caso tutta quest'area era ricoperta da una collina addirittura con degli edifici quindi proprio ci abitavano soprattutto questo ecco a inizio 800 chi abitava qui utilizzava il capitello di quella colonna come attenzione tavolino non so se rendo l'idea però da lì hanno pensato ok dato che questa cosa potrebbe avere un valore perché non scaviamo un po' e cerchiamo di capire se c'è qualcos'altro ed è quel capitello che spuntava dal giardino essenzialmente hanno scoperto tutta l'intera colonna e poi hanno deciso di scavare tutto e riscoprire tutto questo e alcune di queste scoperte sono particolarmente affascinanti come il tempo più antico chiamato il santuario si tratta di uno dei pochissimi esempi di templi romani del primo secolo avanti cristo giunti fino a noi le pareti sono dipinte per imitare le architetture e gli arredi cosicché nella penombra in cui era avvolta la stanza fosse difficile distinguere le vere colonne e i veri panneggi da quelli disegnati e quello era il posto della divinità e quante anni 60 quella decorazione no sono io questo tempio si trova al di sotto del capitolium costruito nel primo secolo dopo cristo per sostituire il vecchio santuario gran parte degli arredi e delle decorazioni murarie sono andate perdute ma le pavimentazioni in opus sectile sono ancora originali anche se sembrano decisamente molto più moderne il capitolium è diviso in tre stanze che un tempo ospitavano le statue di giove giunone e minerva ora perdute ma la stanza a destra ha una nuova inquilina decisamente illustre la vittoria alata posta a brescia nel primo secolo dopo cristo forse per commemorare una vittoria militare questa statua è uno dei pochissimi esempi di statue bronze romane tanto antiche e complete infatti quando l'impero romano passò il cristianesimo come religione ufficiale molti simboli pagani vennero distrutti ma questa statua insieme ad altri elementi ora conservati nel museo di santa giulia venne nascosta da qualcuno in un intercapedine muraria dove è rimasta fino al 1826 e ve lo dicevamo che brescia è la città più sottovalutata d'italia lo sapevate che qui c'era una delle statue dell'antichità più importanti al mondo scommetto di no ora però non rimaniamo qui in città ma andiamo in franciacorta la franciacorta è in provincia di brescia si trova solo un'ora da milano ed è la meta perfetta per un weekend enogastronomico nella natura e visto che siamo stati in mattinata a brescia iniziamo la franciacorta con un pranzo siamo da cadebasi e ok non saranno piatti proprio super tipici quelle ci sarà tempo adesso cominciamo con qualcosa di particolare cadebasi propone curiosi piatti preparati con ingredienti di alta qualità e per provare più cose ha nel menù i buffetti piatti con porzioni più piccole che però non bisogna chiamare tapas è cotto meravigliosamente bene e da qui iniziamo anche ad abituarci ad accompagnare tutti i piatti con il franciacorta e dopo un dolce ai piselli lasciamo la macchina e cominciamo a esplorare il territorio eh sì iniziamo con un giro in vespa il giro guidato in vespa con moto lec tour ci porta ad attraversare i vigneti della franciacorta e poi ci si ferma anche in diversi punti di interesse ma eri già qua a aspettarmi non ho capito certo non hai visto quando sono saltata a gettio superato correndo mi hai fatto sta cagata possiamo continuare questo è il castello di bornato del tredicesimo secolo le sue mura ospitano un giardino con alberi secolari e una villa rinascimentale dove tuttora vivono i proprietari la villa si potrebbe visitare ad aver tempo ma noi non ne abbiamo molto e questo è l'unico punto di interesse dove ci fermiamo solitamente però il tour in vespa dura mezza giornata visitando diversi luoghi e finendo con un aperitivo noi però abbiamo solo due ore prima del prossimo appuntamento che comunque è tra i vigneti visto che siamo in franciacorta non possiamo non parlare di franciacorta quello che si beve ovviamente vino non so se si può dire perché franciacorta si deve chiamare franciacorta tipo ci sono delle parole bandite che sono spumante champagne chiaramente spumante non si può dire bollicino dovrebbe essere concesso forse sì però tipo prosecco assolutamente non si può dire franciacorta franciacorta esatto quindi attenzione altrimenti vi cacciano e ora entriamo entriamo le cantine che producono la franciacorta sono poco più di 100 e questa è la cantina bella vista che prende il nome dal fatto che si trova su un'altura dalla quale si gode di un ampio panorama bella vista è nata nel 77 per hobby grazie all'imprenditore vittorio moretti ma oggi è una delle più grandi cantine della zona come per tutti franciacorta la vendemmia viene fatta obbligatoriamente a mano poi le uve dei 206 ettari di vigneti di questa cantina vengono sapientemente mescolate per ottenere un gusto sempre riconoscibile e di pregio tanto che uno dei franciacorta di bella vista è stato scelto come bollicino ufficiale del teatro alla scala le diverse cantine sono aperte alle visite tutto l'anno ma anche se il nostro viaggio è stato d'ottobre visitiamo il festival del franciacorta che si tiene a settembre vi lasciamo un link in descrizione mi sembra un retrogusto quasi di miele di castagno qui quasi quasi sento di più gli agrumi rispetto all'altro e ora che è calata la sera è tempo di andare a cena andiamo a mangiare dunque siamo al ristorante bella iseo e dopo un pre antipasto di luccio perca abbiamo preso un antipasto misto di pesce sono quasi tutti i pesci di lago tranne il tonno cotto a bassa temperatura poi abbiamo luccio perca di nuovo tratta salmonata e questo è quello secondo noi più interessante una sarda di lago ovvero un agone servito sulla polenta vengono fatti seccare marinare poi grigliati e serviti con la polenta piatto tipico e qui proposto come antipasto ufficiale l'assaggio della sarda di lago fatta proprio come la tradizione di montisola vuole metodo classico a no quello per vini molto saporita è proprio molto molto saporito però ci sta cioè non sa troppo di pesce diciamo che un assaggino ok tutta intera forse forse per me è troppo però ci sta qui accompagnata con la polenta quindi a tutti sce un pochino se pensavate che avessi preso io il riso vi sbagliavate ho preso la pasta senza glutine fatta in casa e non contenta ancora con le sarde di lago croccantizzate fresche croccantizzate che buona questa pasta gnammi io invece ho preso il riso col francia corta e un pesce di lago che non mi ricordo il nome l'unione di francia corta e iseo ecco molto buono e molto saporito comunque adesso finiamo qui e poi si va a dormire vi mostriamo dove dormiamo anche perché questo in realtà è il ristorante dell'hotel andiamo dunque eccoci in camera ma facciamo così noi ci cambiamo e lasciamo che giorgio martina del futuro vi raccontino di questo hotel ok voglia di lavorare coi due zero va bene comunque l'hotel araba fenice è un hotel quattro stelle che si affaccia sul lago di iseo e si trova qui dall'ottocento è stato luogo di villeggiatura per l'aristocrazia bresciana e durante il risorgimento italiano ha fatto da sede per le riunioni patriottiche più di recente l'artista cristò ha soggiornato qui mentre progettava il the floating peers e a me quello che mi ha sorpreso tanto la tenacia la forza d'animo che aveva perché vedere un uomo di 80 anni che a mezzanotte luna ancora lì che catechizzava la sua squadra decisamente è stata una cosa particolare ed è per questo che c'è una suite che si chiama the floating peers che è quello dove stiamo noi quindi facciamo un giro room tour benvenuti nel nostro salottino grazie grazie con le faccio sul lago però vabbè montaggio perché adesso è buio e dietro queste due porte che sono rivestite della stessa stoffa del the floating peers c'è il letto i comodini sono pezzi di galleggiante del the floating peers un galleggiante tagliato in due per fare due comodini e poi ci sono varie teche con i diversi cimeli ma adesso il motivo per cui ci siamo cambiati è che nelle stories vi abbiamo tenuto nascosto vediamo vediamo il bagno questa suite è anche una mini spa abbiamo la nostra sauna personale che la porta ma ovviamente non finisce qui ecco ovviamente immaginate la vista lago perché è notte ma c'è e martì io direi che lascio giù la camera e miniscote buongiorno così buongiorno dove andiamo questa macchina scopriamo devo dirlo adesso la nostra giornata inizia la riserva naturale delle torbiere del sebino tra 800 e prima metà del novecento da questo terreno si estraeva la torba da usare come combustibile e a causa di questa attività che si sono formate le grandi vasche che col tempo si sono riempite d'acqua proveniente da questa zona paludosa creando così un habitat perfetto per molte specie di piante e uccelli che però proprio non vogliono farsi riprendere tra l'altro noi eravamo già venuti in queste torbiere tanti anni fa d'inverno ed era tutto gelato proprio c'era l'acqua di ghiaccio l'acqua di ghiaccio l'acqua di ghiaccio se ghiaccia si l'acqua diventa brava comunque una cosa che non avevamo visto è un monastero perché non sapevamo che c'era un monastero ma adesso lo sappiamo e andiamo a vederlo recuperiamolo la storia di questo luogo nasce poco dopo l'anno 1000 quando qui viene costruita una chiesetta di campagna che quasi subito però viene trasformata in un monastero clignacense con i secoli cambia la società e cambia anche la sua funzione nel 500 diventa una parrocchia e nel 700 una dimora signorile la chiesa ha degli affascinanti affreschi di diversi secoli ma è la sala dei discipline ad essere ancora più impressionante il primo ciclo pittorico risale agli inizi del 500 ma le pareti vengono affrescate più volte e quindi ci sono strati su strati di raffigurazione sacre riportati alla luce dei recenti restauri un paio di informazioni pratiche monastero e chiesa sono gestiti separatamente da volontari quindi non è letto che quando si è aperto uno è aperto anche l'altro i giorni di apertura non sono tantissimi perché appunto sono gestiti da volontari quindi magari date un'occhiata provate a scrivere link in descrizione per le torbiere invece non ve l'abbiamo detto prima ve lo diciamo ora bisognerebbe pagare l'ingresso di un euro ci sono delle casse automatiche oggi non funzionavano però generalmente si dovrebbe pagare quell'euro in modo da anche conservare l'ambiente quindi onesti box siate onesti e noi proseguiamo il nostro giro esatto la nostra prossima tappa è il borgo antico san vitale un complesso composto da un edificio e una chiesa originari del quarto e quinto secolo modificati negli anni e oggi adibite a ristorante e spazio per eventi in più ci sono due edifici moderni costruiti per essere in armonia con quelli antichi e ospitare una distilleria francia corta e già perché in francia corta non si fa solo il vino ma anche la grappa nella distilleria borgo antico san vitale le vinacce di francia corte vengono fatte lievitare per 30 giorni poi distillate a 140 gradi per ottenere la testa il cuore e la coda della grappa a questo punto succede qualcosa di unico nel processo produttivo la coda viene ridistillata per togliere la sensazione alcolica che fa bruciare la gola e lacrimare gli occhi così si ottiene una grappa dal gusto morbido e rotondo parte della grappa viene subito imbottigliata a mano il resto viene messo ad invecchiare in botticelle di rovere fino anche a cinque anni dopo aver visto la distilleria è ora di dedicare il tempo al ristorante due colombe dello chef cerveni e ammettiamo di essere un po emozionati perché questa è la nostra prima volta in un ristorante stellato abbiamo un menù degustazione con tre piatti e iniziamo con la patata viola il gambero rosso e il francia corta ma lo devo rovinare che dobbiamo fa ok detto tutti gli elementi in un'occhiaiata buono lo chef evidentemente ci ha visto un po sciupati e ha aggiunto dei piatti io ho una melanzana fondente e tu invece ho raviolo con coregone pesce di lago con bottarga di coregone assaggiamo rigorosamente cucchiaio e tutto intero potevi aiutarti con la forchetta si apre e viene inondata la bocca spettacolo spettacolo poi in assaggio di manza all'olio che invece il piatto simbolo emblema della francia corta in particolare di rovato il paese natale e una ricetta che ha più di cinque secoli di storia ma questa è la versione di mia nonna elvira che nel 55 ha aperto la prima posteria due colombe ha assaggiato questo piatto per lei era troppo carico troppo pesante e l'ha modificato leggermente senza natural lo faccio così finché farò il cuoco lo farò sempre così è morbidissimo il coltello non serve praticamente ma il dolce con l'olio com'è è molto buono non so se posso dire questa cosa mi ricorda un po il pane con l'olio e lo zucchero che mangiavo da bambina ovviamente però e anche se siamo al dolce non abbiamo finito forse vi siete resi conto che vi abbiamo fatto vedere una distilleria ma non abbiamo assaggiato le grappe quindi li assaggiamo adesso dopo il pasto così almeno abbiamo lo stomaco pieno e facciamo una verticale cioè stessa grappa invecchiata via via di più questa è quella giovane trasparente poi abbiamo invecchiata in barri che 12 mesi e la riserva che è invecchiata fino a cinque anni fresca stranamente mi sembra strano dire fresca in una grappa però è molto più dolce di quel che vero che che mi aspettavo diciamo qual è quella che ti piace di più credo quella in mezzo quella 12 mesi in barricco comunque ora dopo questi grandi sforzi direi che è tempo di rilassarci un po grandi sforzi raggiungiamo la spa del resort i cappuccini qui il percorso in spa dura circa due ore ed è un percorso guidato quindi non si può andare dove si vuole quando si vuole ci sono una sauna e un bagno turco e poi la piscina con getti d'acqua che si accendono quando bisogna spostarsi grazie a questo sistema e al fatto che gli ingressi sono su prenotazione si ha sempre la sensazione di essere da soli infatti il tutto è studiato perché in ogni punto della spa non ci sia nessun altro e dopo un po di relax facciamo un giro nel resto del resort dei cappuccini che si sviluppa all'interno di un convento cinquecentesco poi abbandonato oggi in quella che una volta era la chiesa c'è una sala per ricevimenti e ancora oggi da bere si prende dal pozzo nell'antica cisterna infatti è stata fatta una cantina questo resort ha anche un ristorante ed è qui che ci fermiamo a cena tra l'altro l'ingresso al ristorante passa da questo chiostro che adesso è tutto illuminato veramente veramente bello quasi magico e lo sappiamo che stiamo mangiando tantissimo ma l'ho già detto e lo ripeterò l'infinito è autunno l'autunno bisogna mettere su le scorte per l'inverno e se sono scorte di questo genere certo più che buono andiamo a cena cominciamo con un cremoso delle valli uno sformatino al formaggio con spinaci e poi continuiamo con un profumatissimo risotto al franciacorta dunque dato che comunque il pranzo è finito alle tre e mezza abbiamo deciso di saltare il secondo arrivando direttamente al dolce ho preso un bossolà che è un dolce tipico bresciano mi hanno detto che è una specie di pandoro con la crema adesso i bresciani si saranno subito offesi perché no non è il pandoro state calmi ragazzi tipo è per capirci assaggiamo e vediamo è piuttosto denso proprio come consistenza è molto buono chiaro non è un dolce leggero soprattutto dopo la giornata di oggi è proprio il tappo che copre tutto ci sta ci sta io invece ho uno zabaviglione al franciacorta e col dolce vi diciamo anche buonanotte ci vediamo domani mattina cercheremo di smaltire tutto questo o forse no e questa mattina facciamo colazione al caffè bohème che è dentro un'antica stazione un'antica vecchia stazione ma quanto è bello quante cose voglio per casa tipo la metà che tra l'altro molte delle cose sono effettivamente in vendita perché questo non è semplicemente un bar ma un concept store che comprende anche un negozio di fiori e uno di confetti caramelle comunque colazione veloce dov'è il tuo cornetto tieni mangia mangia grazie che poi si parte devo lasciare giù qualcosa oggi passiamo la giornata sul lago che bagna la franciacorta il lago di seo e cominciamo visitando proprio i seo le sue origini sono piuttosto antiche già in epoca romana era una tappa importante sulla strada tra brixia e la valca monica in piazza garibaldi da sempre piazza del mercato i porticati degli edifici fungevano da estensione per le botteghe qui e lì sulle facciate si possono ancora vedere frammenti di affreschi con cui le famiglie più abbienti decoravano i loro palazzi dietro la piazza c'è la piccola chiesa di santa maria del mercato costruita nel trecento in uno spazio di risulta in modo da avere una chiesa in centro per questo la sua forma è irregolare e ha uno strano ingresso sull'angolo proseguiamo sul lungo lago dove ancora piacevole passeggiare nonostante la brezza autunnale entriamo poi tra le vie fino ad arrivare ad un altro edificio sacro la pieve di santa andrea forse già nel quinto secolo qui c'era una chiesa di campagna che poi con l'espandersi di iseo è stata inglobata nello spazio urbano il nome di pieve però è rimasto la facciata dell'undicesimo secolo con campanile centrale non prepara affatto agli interni della chiesa nell'ottocento l'edificio è stato sventrato e gli interni sono stati completamente ricostruiti in stile neoclassico dando così vita ad una stranissima accoppiata interni esterni tra le varie opere presenti nella chiesa citiamo l'arcangelo san michele che il pittore hayez si quello del bacio ritrae nell'atto di scacciare il diavolo non riusciamo però a capire una cosa secondo voi quelle sono le ginocchia o il di dietro del diavolo mentre ci pensate noi torniamo in piazza e questa è un'altra chiesetta che una volta era la cappella privata del vescovo ma poi è stata via via ingrandita la chiesa di san silvestro risale al tredicesimo secolo e gli ultimi restauri hanno portato alla luce un'interessante danza macabra dove i membri della società medievale sono rappresentati a coppie di fianco degli scheletri abbiamo ad esempio l'abate il monaco la prediletta la contadina e così via a simboleggiare che indipendentemente dalla ricchezza e dallo status sociale tutti dovranno morire e sottoporsi al giudizio divino e con questo ammonimento direi che possiamo uscire torniamo a passeggiare nelle vie di iseo passiamo dal castello aldofredi del decimo secolo che ora è sede della biblioteca e di altre sale comunali poi possiamo andare a mangiare al ristorante radici no non radici radici che in dialetto significa radicchio ed è un ristorante che ripropone piatti tradizionali però rivisitati e stiamo partendo da due tartare una di trotta salmonata perché siamo sul lago e questa di carne però ci hanno consigliato di partire da questa di pesce ottima queste spezie sono fantastiche continuiamo con un secondo antipasto spuma di cavolfiore sempre con trotta salmonata questa volta in carpaccio curry che dà un gusto particolare e poi questi cavolfiori un po brustoliti è molto buono ci sta molto bene il curry col cavolfiore caspita non pensavo questo è un risotto ai finferli che sono racchiusi in questo medaglione e formaggio puzzina il nome non è invitante ma adesso proviamo wow sapore decisamente meglio del nome continuiamo con uno storione con caviale e salsa al franciacorta con una base di porri anche via aggiungiamo dettagli molto buono la salsa insaporisce tanto e mi piace molto arriviamo al dolce con la torta di rose prima di assaggiarla però un'informazione importante questo posto a pranzo è aperto soltanto sabato e la domenica per il resto è aperto a cena e se vedete che oggi non c'è nessuno è perché ce n'ha fatto l'apertura straordinaria di venerdì quindi vabbè piccolo apparenzi assaggiamo ciao proprio buonissima bella calda mascarpone buonissimo possiamo proseguire andiamo sì siamo in hotel ma la giornata non è finita adesso da qui prendiamo questo gioiellino e ci facciamo un giro sul lago il lago di seo offre l'opportunità di fare molti sport acquatici ma visto che è autunno rimaniamo all'asciutto e facciamo un giro sul riva aspetta aspetta un attimo ferma tutto dove farmi credere che avresti fatto tipo sci nautico non ha bisogno di rispondere è autunno ho una scusa non lo sapremo mai comunque il cantiere riva nasce nel 1842 sulle sponde del lago di seo e ancora oggi produce imbarcazione di lusso come questa questi motoscafi sono diventati un simbolo del design italiano nel mondo tanto che anche james bond ne guidò uno nel film golden eye e poi io mi esalto tantissimo per queste cose perché le riprese vengono bellissime le foto vengono bellissime cioè spettacolo giriamo tutto intorno montisola e passiamo vicino all'isola privata di loreto ea quella di san paolo che ha fatto parte del the floating pierce infine arriviamo all'attracco per i traghetti di sensore e scendiamo su montisola ciao grazie proseguiamo così marti montisola a chi servono le scarpe montisola è l'isola lacustra abitata più grande d'europa inoltre è uno dei borghi più belli d'italia il suo fascino era riconosciuto già nell'ottocento quando pittori scrittori e poeti venivano qui a passeggiare e lasciarsi ispirare dall'atmosfera e dal paesaggio e ora anche noi come tutti questi artisti romantici percorreremo la via dell'erea fino al prossimo paese su montisola fatte pochissime eccezioni non sono ammesse auto e il suono delle onde sulla riva è interrotto solo dal rumore degli sporadici motorini in circa mezz'ora arriviamo a peschiera maraglio dove delle installazioni ricordano la tradizione di appendere ed essiccare gli agoni in riva al lago cosa che si fa ancora anche se in maniera un po' diversa mentre il sole tramonta ci addentriamo nelle tortuose via del paese fino ad arrivare alle terrazze del residence in soldo freddi dove ci godiamo un aperitivo tipico e in questo aperitivo stiamo assaggiando una cosa proprio tipica di montisola che è questo salame molto buono e se ti tocca parlare con la bocca piena non fa niente e pensavate ce lo stessimo dimenticando anche questa volta e invece no e invece no abbiamo recuperato anche il pirlo che è vero non siamo a brescia città ma la provincia vale lo stesso diciamo quindi assaggiamo il pierlo io la differenza con lo spritz non la sento ma perché sono ignorante io questo spritz rivisitato invece fatti da manuel tra l'altro tutti questi drink con questo aperitivo questo tramonto sul lago che ormai è tramontato c'è la luna con questa luna sul lago noi vi salutiamo eh sì dobbiamo ringraziare ovviamente visit brescia per averci supportato in questo progetto per averci organizzato delle attività davvero davvero belle grazie anche a federica che ci ha accompagnato in molte di queste attività grazie a voi per aver guardato il video e grazie per tutti i miei commenti che ci diranno ma non avete visto questo dovete tornare va bene va bene tornere mettiamo in conto anche questo nel frattempo ci vediamo al prossimo video e al prossimo viaggio ciao ciao